Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione Cristiano Ronaldo, pallone interessante in verticale Pogba e c'è il gol del Manchester United Pogba e c'è il gol, grazie a, dopo 38 minuti, il numero 6, Pogba A volte quando ci si avvicina la porta, le energie spese fanno annebbiare la vista A lui evidentemente non è successo, eccellente prestazione individuale Dopo 66 minuti, il numero 18, Bruno Fernandes Buon pallone recuperato, un contributo entusiasta anche alla fase difensiva Ma questa non è ormai una sorpresa, molti allenatori di oggi stanno chiedendo ai giocatori più avanzati di dare una mano anche in fase di copertura Bambissaca, riceve un bel pallone, va di testa e c'è il gol del Manchester United Prima rete per il Manchester United Bel colpo di testa, ha sfruttato bene il pallone del compagno Ha colpito bene, con perfetta coordinazione, gran colpo di testa Gol del Manchester United Marcò, e nel minuto 22 Il dorsal 6 Ha dato un gol straordinario, peccato per la conclusione Aveva fatto tutto bene, forse però è arrivato un po' stanco quando ha tirato È occasione persa questa, ha sbagliato l'ultimo passaggio A volte è necessario dimostrare un po' di pazienza, aspettare il momento giusto per servire i compagni Un passaggio Occhio alla conclusione E il palo salta al portiere Inizio della partita Beh, il finale di tempo è stato impressionante È vero che il fischio dell'arbitro ha interrotto il loro slancio Ma se continuano così, possono portarsi a casa la vittoria L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere gioco Il mister vuole cambiare qualcosa La prima sostituzione non ha portato i risultati sperani Ora c'è un altro cambio, vediamo se la squadra ne avrà beneficio Pugba, oggi è andato a segno Cristiano Ronaldo Prova con la palla lunga Pallone buono per la sua iniziativa offensiva Salta e colpisce di testa Tutto bello, ma la conclusione non va a segno Avevano molte opzioni in area di rigore Questo è il modo di attaccare Cambio di giuratore nel Barcellona Il Barcellona è portato subito in un altro cambio Sarà sostituito con Il Dorsal 18 C'è la palla lunga, in avanti Bel pallone Calma, prova la conclusione E questa era veramente una grande occasione Che delusione Un altro gol avrebbe messo gli avversari in estrema difficoltà Intercetta il pallone dopo una lettura Qui c'è grande occasione Mappalo Avrà dos minuti a sto descuento Fa avanzare l'azione con il lancio lungo Tentativo di passaggio lungo Poco preciso E l'arbitro dice che può bastare Una gara vincente